Ciao a tutti, benvenuti su Paperless Prinks, io sono Martina e in questo video spacchettiamo insieme un pacchettino e vi mostro la mia collezione di cover per iPhone. Dunque dall'intro un po' avrete già capito che cosa c'è qui dentro perché parlando di collezione di cover per iPhone ovviamente vi verrà in mente che c'entra qualcosa questo pacchettino. Io intanto spero che la luce sia piacevole ma dobbiamo tenere tutto chiuso in casa perché altrimenti entra un gran caldo e ho dovuto mettere quindi la ring light per fare questo video. Spero che non sono ancora molto capace di metterla quindi spero che comunque non dia fastidio. In ogni caso appunto andiamo ad aprire questo pacchettino da Amazon che è veramente incredibile, l'ho comprato ieri di domenica ed è arrivato oggi che è lunedì. E andiamo a vedere subito che cos'è, spero che mi piaccia perché sono andata un po' sulla fiducia. Allora come potete già un pochino vedere da così è una cover. Sbam! Ed è la cover giallo girasole. Allora ecco diciamo che me l'aspettavo forse leggermente più scura perché appunto contavo che fosse proprio un giallo girasole. Però vabbè dai vediamola meglio nello specifico perché magari alla fine è bella così. Vediamola, infatti diciamo che, ve lo mostro anche un attimo da così, è un po' più scura dal vivo rispetto a, spero che si veda il colore dal vivo, sinceramente non so bene con questa luce ma è un pochino più scura rispetto al colore della videocamera. Forse così si vedono un po' meglio i colori. Comunque non disperate se in questo unboxing non si vede benissimo il colore perché ho intenzione di mostrarvela di nuovo quando faccio la collezione di cover. Sicuramente con questa luce è un po' problematico mostrarvi i colori ma la collezione la farò in un momento in cui c'è la luce naturale, quindi ve la mostrerò meglio in quel momento. Non mi dilungo ulteriormente, non la provo sull'iPhone perché la proverò direttamente in quello spezzone di video. Ok, oggi sono al sole, quindi c'è un po' di luce, in realtà adesso il sole non c'è, però dovrebbe andare bene lo stesso, sono alla luce naturale, così vi posso mostrare meglio questa cover e anche ovviamente tutta la collezione delle altre cover. Dunque, questa è quella che avete visto, che ho unboxato nella clip precedente e ho usato questo come sfondo, viene sempre da Unsplash perché appunto mi piaceva abbinare il giallo dei girasoli con la cover perché appunto la cover si chiama Sunflower, quindi girasole. Vi mostro anche la schermata Home, che è questa, e sempre girasoli. Se volete sapere che cosa c'è nel mio iPhone vi lascio il link qua nelle schede da qualche parte, credo sia qua, però non sono sicura. Adesso andiamo a vedere appunto tutte le altre cover della mia collezione, che sono tutte queste, e le mettiamo insieme sull'iPhone in modo da mostrarvi bene come stanno, però prima colisco l'iPhone perché così non lo posso vedere. Andiamo a provare le altre cover. Le tre MagSafe le avete viste di recente perché appunto ve le ho mostrate in un vlog, mi sembra. Comunque ve lo lascio, vi lascio anche quello nelle schede, se riesco a toglierla. Ok, quindi questa è quella giallo girasole, sono in una posizione un po' scomoda. Ok, adesso forse mi sono messa un pochino meglio. Poi c'è l'azzurro nube che purtroppo non è più disponibile da Apple, io l'ho trovata usata su Vinted, e la amo follemente perché è stupenda, soprattutto per questa stagione, è veramente il top. Quelle ancora disponibili ve le lascio in infobox ovviamente. Poi ho questa che credo che sia perché appunto l'ho comprata sempre usata, la ragazza non specificava i colori nello specifico, ma so che quella si chiama sicuramente azzurro nube, e so anche come si chiama l'altra che vi mostro tra un attimo. Questa credo che sia melone, però non sono sicura perché di arancioni ce ne sono diversi. Questa appunto è la melone sul mio iPhone nero, graffite mi sembra si chiama il mio iPhone, ed è veramente stupenda anche questa per l'estate, quindi la userò sicuramente. Adesso però appunto ho quella giallo girasole che mi piace. Questa è viola e penso sia la ametista, è così sull'iPhone, è veramente stupenda, la userò sicuramente tantissimo in autunno e vicino ad Halloween, anche se va benissimo anche questa per Halloween, anche se è un arancione un pochino più estivo, però va bene, in realtà poi per l'autunno va benissimo anche quella gialla, quindi ne ho veramente tantissime per l'autunno e non vedo l'ora appunto di usarle anche per le prossime stagioni. E poi c'è quella ovviamente natalizia, in realtà non è una cover natalizia questa, ma io l'ho presa per Natale e l'ho unboxata con voi in uno dei fiocchi di creatività che come sempre vi lascio nelle schede. Questa è veramente stupenda, è il Product Red, e tra l'altro acquistando gli articoli dal sito di Apple Product Red si contribuisce a una causa che non credo sia sempre la stessa, prima era per la ricerca appunto per l'AIDS, adesso mi sembra che quando ho acquistato io questa ci fosse qualcosa riguardante il Covid, però non sono sicura. Quindi queste sono tutte le cover MagSafe che ho, potete capire che è una tipologia di cover che mi piace moltissimo, anche perché ho un portafoglino MagSafe comprato sul sito di Casetify o Casemate, non me lo ricordo, forse Casemate, che adoro e quindi va benissimo per le cover MagSafe. Poi ho questa che avevo comprato in primavera e volevo usare anche in estate, ma appunto poi ho ceduto alle altre cover, ed è di questa marca EvoArt, anzi Tech 21 la marca, è bellissima, veramente stupenda, la appoggio solamente sull'iPhone e ve la mostro appoggiata perché è durissima da mettere e togliere, non ho voglia adesso di stare lì tre ore a metterla e toglierla, però come vedete è molto bella perché lascia lo spazio proprio per la mela dell'iPhone di Apple e quindi è veramente bellissima per quello. Ha i bordi esterni semi rigidi, anzi sono molto rigidi però ovviamente non sono rigidi come la parte posteriore e sembra che non si ingialliscano più di tanto, forse si stanno iniziando ad ingiallire un pochino ma non come altre cover che ho dovuto purtroppo buttare perché erano veramente gialle, gialle, gialle. Infine, altra cover super apprezzata e veramente bellissima, questa è stata la mia prima cover, è questa di Swarovski. Io ho la versione nera, quindi con tutti gli Swarovski neri, e la placchettina con la marca in rose. Mi piace un sacco perché tra l'altro si abbina benissimo anche all'Apple Watch, il rose gold. Quindi veramente stupenda, questa la amo tantissimo. Devo stare molto attenta perché soprattutto qua nei bordi sono un po' non taglienti però possono graffiare, infatti mi hanno graffiato l'iPad un pochino e qualche mobile perché magari se lo appoggiamo così tranquillamente non succede niente ma magari andando ad appoggiarlo ho appena urtato il mobile e ho graffiato anche un pochino i mobili. Ovviamente abbiamo i mobili dell'IKEA quindi si graffiano a guardarli però guardate la meraviglia di questa cover. Quindi questa era tutta la mia collezione di cover per iPhone. Ne ho volute prendere diverse perché penso, non so se mi crederete o meno, ma penso di tenere l'iPhone ancora per tanto tempo perché con il 12 Pro Max mi sto trovando veramente strabene. mi piace cambiarli gli iPhone ma riconosco anche che se mi trovo bene con un modello non è necessario passare ai modelli successivi per forza. Quindi ho voluto appunto acquistare più cover possibile per questo iPhone perché come vi dicevo di queste, con queste mi trovo benissimo ma stanno iniziando a scarseggiare le disponibilità dei colori e essendo uscito già un iPhone dopo il mio e ne uscirà sicuramente anche un altro a settembre non vengono riforniti i colori per il mio iPhone quindi appena posso me li acchiappo quelli che mi piacciono e almeno sono tranquilla. Quindi appunto come dicevo ho preso tante cover per questo motivo e poi perché mi piace cambiarle sia in base all'abbigliamento sia in base alla stagione. Quindi basta, questa era la mia collezione di cover fatemi sapere che cosa ne pensate o con un like a questo video o con un commento mi raccomando mettete anche i commenti perché come vi dicevo tempo fa potrebbero arrivarvi delle sorprese per chi commenta tutti i miei video e basta, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video vi ringrazio per aver guardato questo se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e a lunedì, ciao! Grazie! 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 Grazie!